Sarà una fiera campionaria particolarmente memorabile, sarà bella, sarà ricca, sarà un rilancio. Noi non abbiamo lavorato per mettere le toppe sui buchi, abbiamo lavorato e abbiamo anche investito denaro perché la fiera potesse tornare a essere uno dei grandi punti di riferimento del dibattito politico e del dibattito economico in Italia e che potesse anche mostrare quel Sud che non si lamenta, che opera, che inventa, che crea, che è bello e che è orgoglioso della propria storia.